Prove tattiche sul sintetico del Bonconte da Montefeltro per gli Amaranto. In campo per lo più i giocatori rimasti a riposo contro il Prato. Ecco quindi Moscardelli, Polidori, Foglia, Ianga, Arcidiacono, Muscat, Sirri, Oltradem, Babà e Portieri. In programma una sola seduta di allenamento iniziata all'interno del Comunale per la prima squadra di Sottili, reduce dalla vittoria in Coppa Prato, dove l'unico episodio negativo di giornata è stato il problema muscolare di Giuseppe De Feudis. Domani arriveranno maggiori dettagli e sarà possibile capire se il mediano potrà prendere parte o meno al derby con il Livorno. E proprio contro gli Amaranto di Foscarini, l'Arezzo potrebbe schierare il 4-4-2. È questa l'ipotesi che va per la maggiore, stando anche a quanto visto in campo. Sottili infatti ha iniziato a impostare il lavoro in vista della sfida dell'ardenza. Al buon conto il tecnico ha fatto disputare alcune partite alla tema, schierando una linea difensiva a 4 con Muscat e Sirri centrali. Masciange alla sinistra e visti gli straordinari di Luciani a completare il reparto è stato inserito Ba. La manovra offensiva invece poggerà su Polidori e Muscardelli in attacco con Ianga e Arcidiacono esterni. A centro campo Foglia non mancherà l'appello in attesa di conoscere se anche De Feudis potrà essere della partita o meno.